Ma che cazzo stai? Che cazzo stai di che i miei padri è impezzente? Buono, io ho solo detto, con rispetto parlando, che se prima uno va a girare a far signore, e poi mi chiede gli spaldi, se ne è impezzente... Ma pezzo del merda! Calmatevi, su, non fa niente! Buono, buono, la retta a tuo padre. Lascia stare, non è successo niente, su, siamo amici, no? Stiamo a mangiare tutti insieme, dai! Io non ho capito bene quello che gli ha detto a lui, però secondo me c'ha ragione. Cioè, vuol dire, capisco che uno è una persona per bene, che ha lavorato tutta la vita, però se poi le cose vanno male, è venito qui da noi a chiederci di fare beneficenza. Non capisco perché siamo saluti allo stesso tavolo. Io chiedo scusa, forse sono stato troppo esplicito. Quello che volevo dire è che noi la mano ve la diamo. Ma non è che potete venire qui a parlarci di condizioni. Oh, almeno i soldi per pagare il conto ce l'avete. Oh, ma che fa un soldi al dolce? Dai! Dai! Grazie a tutti.